Indipendentemente da quelli che saranno gli sviluppi futuri, il Movimento 5 Stelle ha già riportato un grandissimo successo, riuscendo a prendere per il collo lo schieramento dei partiti in corso di dissoluzione, imponendo concetti, programmi, idee innovative che li hanno spiazzati e non è che non abbiano avuto tempo a disposizione per pensarli autonomamente, hanno avuto decenni, decenni e non lo hanno fatto. E allora hanno tentato, stanno tentando di copiare quanto il Movimento 5 Stelle ha individuato, ma il processo di imitazione si è rivelato difficile da praticare, appare in cittadini anche più sprovveduti, rozzo e approssimativo. Anche gli interventi dei deputati e senatori della comunità del Movimento 5 Stelle in Parlamento, in qualche modo cercano di neutralizzarli, di trovare degli antidoti, ma al più delle volte naufragano. Poi ogni cosa che propongono dietro c'è la dilazione. Magari si dice aboliamo questo, aboliamo quest'altro, però lo faremo e di lì ognuno può immaginare il tempo che ci vorrebbe per effettuare modifiche che potrebbero essere fatte subito. Quindi una maldestria che rivela oltretutto dilettantismo e approssimazione da quelli che si ritengono i grandi professionisti della politica. L'informazione si adegua e fa del meglio per servire i suoi padroni. Un esempio, l'assemblea, il comizio in piazza del popolo a Roma in occasione delle amministrative, dove ero presente. Posso testimoniare che la piazza era stracolma. Ebbene i lupi Mannoni, in particolare della RAI, che cosa hanno detto? Che le piazze erano vuote, faceva eccezione quella di Grillo. Basta, non si è vista una panoramica, non si è vista una ripresa, ma che diavolo di giornalisti sono questi. Bastava fare il confronto fra le piazze squallidamente vuote del Colosseo di San Giovanni per accorgersi della grande partecipazione, quantomeno in piazza dei cittadini. Poi ci sono i casi proprio esilaranti, come quello di Capezzone, che propone l'impignorabilità della prima casa, suscitando una risata generale proprio da lui. Cosa sperano con questi metodi di recuperare i consensi perduti? Grazie a tutti.